Un'iniziativa sicuramente di grande interesse, crea per le frontiere degli accoglienzi, oggi Labba, sempre attenta alle tematiche del settore, organizza questa interessante iniziativa sul mondo del BNB e quindi del turismo. Si prevede un grande successo, gente da tutta la provincia, quindi il tema era interessante, questo aumento esponenziale dei BNB sicuramente provoca occupazione, il Labba sempre attenta ai segnali che provengono dal territorio, oggi vuole fornire un tavolo tecnico, con un tavolo tecnico tutte le risposte necessarie per agire nella totale legalità. Sessore Lobello, un momento importante, oggi si parla, si apre questo faro sul mondo del BNB che stanno dando tanto contributo al turismo, alle attività produttive, ma anche un momento per fare delle riflessioni sugli aspetti anche legali del settore che è un po' magari lasciato a se stesso. Sì, è una nuova esperienza soprattutto per la nostra regione, però abbiamo visto che rappresenta in questo momento davvero dei grandi numeri perché rappresenta la nuova frontiera dell'accoglienza, quella delle case trasformate in luoghi di accoglienza dove ospitare tanti turisti che arrivano nella nostra Sicilia e che arriveranno. Un momento come questo ringrazio gli organizzatori, ringrazio il Presidente per avermi invitata, credo che Carmelo come sempre abbia proprio visto quali sono le esigenze in questo momento del settore ed organizzando questo momento è anche per me occasione utile per parlare dei nuovi bandi, dei bandi a cui possono partecipare i proprietari dei BNB per trasformare questo non soltanto in occasione di accoglienza, ma io mi permetto di dire anche per cercare di costruire una rete che possa dare quei tanti, tanti, tanti posti letto di cui la Sicilia nei prossimi anni avrà bisogno. Sono previste misure anche per questo settore? Assolutamente sì, abbiamo tre misure che riguarderanno proprio il settore del turismo e lì oggi diremo che prossimamente questi bandi escono, presumiamo il prossimo venerdì, per cui ci sarà se certamente una grande attenzione perché sarà una grande opportunità. Uno dei fini istituzionali della provincia è quello di interessarsi per motivi anche istituzionali visto che è delegata dalla regione e occuparsi del territorio e dello sviluppo della zona a livello turistico. Noi abbiamo anche un servizio ad occhi diretto dal dottore Contino il quale misura un po' quelle che sono le capacità turistiche della zona, facendo anche degli adeguati report, quindi evidenziando quelle che sono le criticità, quelle che sono le possibilità di sviluppo della zona. Non c'è dubbio che la provincia ha accolto questo particolare momento dove si parlerà di indirizzo alla legalità di quelle che sono le attività, delle persone che vengono a fare velleggiatura da grigie, ma principalmente vogliamo dare anche quel segnale forte di legalità, cioè fare in modo che le persone che aprono certe attività di accoglienza sappiano cosa fare, come comportarsi, nel rispetto di quelle che sono le normative di carattere civile, amministrative e anche di carattere tributario. Grazie.